Ci sembrava importante che all'interno di un quadro di enti che sembra realmente omogeneo nel suo no al rigassificatore ci fosse l'esigenza di rassicurare anche la popolazione che vogliamo tenere viva l'attenzione su questo problema. L'adesione di tutte le forze politiche al no al rigassificatore è l'unico elemento positivo in tutta questa vicenda tornata prepotentemente d'attualità dopo che il Ministero ha confermato il via libera ambientale. Sinistra Ecologia e Libertà presente anche con i suoi esponenti nelle amministrazioni del territorio annuncia una battaglia che sarà durissima e che per maggiore tutela potrebbe passare anche per le vie legali specie in attese del pronunciamento del Tar del Lazio il prossimo 11 marzo sullo stop di sei mesi deciso dall'allora ministro Clini. L'esperienza passata ci ammonisce di essere molto molto svegli in questo senso allora è inevitabile che tra le varie opzioni che noi metteremo in atto quella di un controllo costante sui comportamenti delle pubbliche amministrazioni sia un atto dovuto da parte di una forza che è sempre dichiarata contraria a questo tipo di impianto. Oggi il clima è cambiato ha detto l'assessore Laureni rispetto alla concessione dell'AIA da parte della Regione nel 2012 definita una farsa. L'ho definita una farsa perché oggi è sabato e siamo tutti contenti avrei potuto definirla in modo molto peggiore cioè vengono meno tutti i punti qualificanti della legge stessa e il tutto diventa una pura farsa al servizio di un'idea già precostituita. La palla ora in mano alla Regione. Verrà chiesto alla Regione in sede di autorizzazione unica all'impianto di dare il suo assenso io sono convinto che la Regione non lo darà perché sono convinto che la Presidente sia assolutamente sincera nel suo convincimento a quel punto questa non ha senso, non diventa vincolante per bloccare l'impianto ma sicuramente sposta la decisione a un livello molto più alto che quello del Presidente del Consiglio dei Ministri e lì vedremo se la voce di Trieste sarà stata fatta per venire alta e forte.